Mi leggi questo? POLLOS ASSADOS! No, questo, questo! ASSADOS! Questo! Vieni qua! No, c'è la roba mia! INO AI POLLO PARATI! PARATI! Ok, siamo in safe. Ah, nemici, 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 nemici! Vedo il tizzo, vedo il tizzo! Vedo il tizzo! Ah, 2.65! Sì, sì, ragazza! Mi sto cercando di andare a fare che... ...a riparare! Tartato! Tartato due volte! Tartato due volte! Ragazzi, campo militare, spaviamo F! Non ce l'abbiamo. Possiamo farcela. Buon capire. Tranne Drake. Drake, non si è lanciato. Le ho detto che dovevano aspettare ancora... Scusatemi! Tranquillo, scendi al Water Treatment se non c'è nessuno e poi ci raggiungiamo, ci aggiungi oppure te ne avrai un posto un po' più salato se hai paura di poter fitment perché magari vedi troppa gente apro così magari arrivo all'inizio ragazzi invece lanciate un campo militare no invece guardate un istante per le macchine per dopo c'è un pulmino qua sulla strada quella larga che intanto vediamo eh si stanno scendendo invece dietro di noi però non verranno break vedi che qua c'è gente dove ho messo il puntino arancione capito ok allora vai te lo mi sto facendo di capanni uno io mi faccio la parte esterna uno si faccia quella centrale uno quella un po' più interna conviene così c'è una moto qua pure per ora prendete tutte le ottiche che trovate se avete spazio per fare dot e cose tutti accessori che potete se anche non servono a voi possono sapere bende anche se ne avete tante finché non fulllappate prendete tutto grazie qualcosa che non avete ancora tipo di cose di base guarda qui che ci sono loot in mezzo ai silos è pieno di loot ma l'hai capito sono in campo aperto si 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 è pazzesca sta mappa a volte ci sono cose dove in genere non siamo abituati a lootare questo cappante io ho fatto quelli dietro di me si 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 torre torre già fatto ho fatto il palazzo e ce ne metto altre lì dove ho messo la cosa la raga devo venire verso di voi o no? chiede torre si però vai verso la fine del campo proprio altrimenti oh m416 si si mi fammi luttare giusto il gas si sta muovendo eh drake tu con cosa stai arrivando di veicolo? con un pick up cioè con la jeep scusa ok ti ricordo che a torre c'era un team si 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 sto facendo un giro largo ma un po' siamo nel gas esatto si ma la safe non è se arriva drake con il mezzo possiamo buttare un pochettino e cerchiamo ecco il sai che mi preoccupo vabbè c'è un pulmino abbiamo detto nella strada tanto con quello che luttiamo come cure riusciamo a finanziarci il cosa non è il gas drake ma non dovresti venire a prenderci? ci avete del pulmino voi? va bene si andiamoci a prendere il pulmino raga dai ho capito che ho avuto il pulmino si si abbiamo anche il pulmino nel caso tu non potessi venire a prenderci vai vol un altro first aid frate qua c'è uno sto luco si ho capito vol ma se parte l'altro safe siamo la prendiamo nel pulmino ancora ma l'altro safe manca arrivata la prima frate manca arrivata la prima sono riuscito a raggiù a prendere tre first aid, un medkit, 5 pain, 4 energy lo so frate non ci arriviamo dai con le bende ci curiamo a questa prima barca di gas vai vai piano vai vai piano con sta vanno vai sulla destra vai sulla destra vai piano vai sulla destra e metti sulla strada vai sulla destra frate destra che ti metti sulla strada verso il punto arancione eeeh intanto che Drake ci è passato la cruz della valla o no? si e quindi non t'hanno ammazzato no ha superato la prova Drake lui ha detto che c'era gente a torre a Umaga si si ma sai com'è essendo a sud cruz della valle magari gli ho fatto il posto di bloc vabbè usiamo le bende per ora velocemente prima di morire sto tornando ma dove li hai mollati voi first of all? è vicino alla valla al pick up raga per voi al pick up che ti sei preso? no si fuocando eravamo tutti quanti insieme eh eri solo al pick up Chris no eri disteso che ti stavi curando con gli altri frate c'è poi alle allucinazioni a quest'ora non so sto cercando dove cazzo fo dove era il first perduto non lo so dove cazzo era raga? voi siete venuti a piedi lo sapete meglio verso di qua forse vi ho trovato fo vieni vieni che ci andiamo vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua ok arrivo mi leggi questo pollo sasados asados questo vieni qua sassata ammia inoai pollo parati parati è quella quella non è una i i i dove era voldi in queste sale sì sta salendo uno per il drop raga sta andando uno per il drop eh attenzione Sparo L'ho hittato L'ho hittato L'ho hittato L'ho hittato L'ho hittato Di nuovo L'ho mancato questa volta Con un coglione Ok L'ho ucciso Mi ha dato la kill Sopra sulla destra Qua a destra Ragazzi sto mollando uno scarella io Mi serve il tattico a stock se ce l'hai No Ti posso dare un ve Un angled Solamente No no Sono al posto Nessuno ce l'ha attaccato a stock Attenzione al team di quelli Perché venivano davanti sto capanno E allora Sparano sulla Sparano a sud ovest All'altra parte di quella collina Occhio Dobbiamo avanzare raga E siamo in campo aperto Quindi occhio Con l'h Occhio perché Se c'erano amici Qua verso sud ovest Ora si dovranno spostare pure loro Quello non si riesce ad adottare quel tipo No No è proprio là sopra Non esiste Ok siamo in safe Peccato Ne vincere Ne vincere Ne vincere Ne vincere Vedo il tizio Vedo il tizio Ah 265 Sì sì ragazzi Dietro doccia Mi sto cercando ad andare a fare Che Arrivare Ti trato Ti trato due volte Mi devo Mi sto curando È tipo un plotone Esecuzione Non lo devo venire in safe Scusate È uno solo Vi so No no Erano tre O due o tre Ok Vole uno solo Ma minchia nera Vi vedete Dai Dietro quell'albero ovest Lo vedete Uno Almeno Dove Drake Era 265 Di quella roccia Lo vedete C'è una roccia Ovest Ok Lui attacca Dalla sinistra C'è l'albero Sulla sinistra Ecco Vedo Guardato la kill Io Guardato la kill Bella Bella Era da solo Bella Ah Certo Mi fa tutto questo danno Ancora il giubbotto all'uno Io Ragazzi Ci sono 14 Abbiamo 10 nemici E sta droppando Raga Aspettiamo un istante Siamo in safe Non ci pigliamo tante botte Perché qua sparavano come i cani Ragazzi C'è un minuto e 37 Mi coprite Che vado a vedere Se è quelli Insieme a Drake Sì Andiamo verso di là Perché c'è il drop Sì Stavano da luttare Stavano da luttare Stavano da luttare Non ne ho Yes Ragazzi voi ci coprite un pochettino Guarda se c'è un giubbotto Drake Per favore Vedete se c'è Tactical Quando l'ho luttato Giubbotto Giubbotto No non c'è Ok Vado a vedere Guarda c'è 8x Cose così Vado a vedere Quello L'altro che avete ammazzato Mi devi dare però Il reddotto Ragazzi C'è un 8x Attenzione Stavo sparando L'ho visto È dietro la roccia 245 Ok Oh C'è un altro In fondo Però Lo vedo Spara L'ho noccato Preso Noccato uno Abbiamo noccato i due Attenzione C'è un altro Lo vedo Quello è sempre Quello noccato Ammazzato Ammazzato E' morto E' morto E' morto Non lo spara Non sprecare Quei colpi Con Eh lo so Infatti Allora c'è un altro Che sta andando Sta strisciando Verso destra Quella pietra Ok Non sprecate colpi Di armifiga Ragazzi A chi servono Cura Chi serve First aid Che ne ho 5 Io ne ho uno Dammi Vieni qua Io ne ho 9 Occhio a quelli Che possono arrivare Dal fianco Per quello Si sarà spostato Dal fianco Quello che No abbiamo Ammazzato Del team Verso 200 Su dove Ce ne sarà Uno Dove Siamo all'assietta del patroco Sì sì L'ho visto uno Fuggire Verso 160 Ok Dove Ma datami Una cosa Tipo vicino A un muretto Ok Benissimo Sì 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 Attenzione ragazzi Non guardiamo tutti Quanti là Che arrivano Alle spalle E ci massacra Tutti Perché c'è Quello di fianco Che mi preoccupa Forse è a sud ovest Sì andiamo Andiamo Quello più in fondo Di muretto Dopo la strada Eccolo L'ho ucciso È là Nice Mi piaccia La pure Torreddo È là Chicken dinner Ragazzi Quarto chicken dinner Della giornata Break it down Like situations Eccolo La Sì and Pi� Già Grazie a tutti.